Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense, domenica 21 febbraio. Da oggi Ferrara e tutta l'Emilia Romagna sono in zona arancio, potenziati i controlli da parte delle forze dell'ordine, due le aree poste sotto osservazione in città, controlli anche sulle autostrade, sulle strade del territorio e anche in stazione ferroviaria. Da piazza Martiri della Libertà, piazza Trento Trieste e poi via Mazzini, via Bersaglieri del Po, via Carlo Mair e via San Romano. Sono due le zone della città di Ferrara che solitamente presentano maggior afflusso di persone, in primis nella fascia oraria pomeridiana e per questo motivo maggior rischio di assembramenti, nelle quali sono stati potenziati i controlli da parte delle forze dell'ordine. I servizi di controllo per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 sono pianificati da diversi mesi in ogni fine settimana dal questore di Ferrara e sino ad ora, spiega Cesare Capocasa, i ferraresi hanno dimostrato il corretto comportamento nel rispetto dei decreti legge in vigore per il contrasto all'emergenza epidemiologica in atto. Ma questo weekend, considerato il passaggio da domenica 21 febbraio in zona arancione dell'Emilia Romagna, i servizi sono stati orientati per garantire due diversi obiettivi. Nella giornata di sabato i controlli sono stati effettuati sia per verificare il rispetto del divieto di assembramento e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte dei cittadini, sia per accertare che i titolari degli esercizi commerciali facessero osservare il rispetto del distanziamento all'esterno degli stessi. Le verifiche inoltre sono state rivolte anche nei confronti degli esercizi commerciali che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO, bar esercizi pubblici simili senza cucina e commercio al dettaglio di bevandi in esercizi specializzati per cui è vigente il divieto di asporto dopo le ore 18. Nella giornata di domenica i servizi hanno lo scopo di verificare in particolar modo che gli esercizi commerciali restassero chiuse al pubblico ed effettuassero il solo asporto consentito sino alle ore 22. Sono stati intensificate anche i servizi di vigilanza e i caselli autostradali di Ferrara Nord e Ferrara Sud con l'impiego di pattuglie della Polizia Stradale, sempre per verificare il rispetto del divieto di spostamenti tra regioni limitrofe, stessi servizi previsti anche per la Polizia Ferroviaria. La questura di Ferrara ricorda che le inosservanze delle regole anti-Covid-19 portano a contravvenzioni con sanzioni amministrative che variano dai 400 ai 3.000 euro. Per gli esercizi commerciali comportano anche la chiusura dell'attività per 5 giorni lavorativi. Negli ultimi controlli sono state sanzionate già due persone. E alla soglia del potenziamento della campagna del vaccino anti-Covid previsto già a partire da domani si segnalano purtroppo tagli delle forniture di vaccino AstraZeneca. Intanto il virus continua a correre come dimostra anche il bollettino di ieri. Alcuni dati sono in miglioramento ma purtroppo non quello dei decessi. Cinque ferraresi tra i 48 e i 90 anni hanno perso la vita per probabili complicazioni apportate da Covid. A queste persone si aggiungono le 18 vittime registrate nel resto della regione. Capitolo nuovi positivi nel nuovo bollettino. Nel ferrarese cala considerevolmente tra un giorno e l'altro il numero dei ferraresi che si sono contagiati. 69 nuovi positivi, circa lo stesso numero dei nuovi guariti dal virus nello stesso lasso di tempo. 66 su un numero di tamponi leggermente inferiore rispetto al giorno precedente. Intanto la situazione negli ospedali Covid sabato è in complessivo e leggero miglioramento. sia a livello regionale che ferrarese, tranne a Cona dove si registra un saldo di più 7 tra nuovi ricoveri e dimissioni dall'ospedale. Se ci spostiamo in Emilia Romagna, su quasi 32.000 tamponi effettuati, 1724 nuovi positivi con un tasso di incidenza al 5,4%, quasi 1500 nuovi guariti. C'è attesa ora per lunedì quando dovrebbe entrare nel vivo la campagna vaccinale. Nel ferrarese aprirà anche il maxicentro in fiera e i medici di famiglia potranno somministrare le dosi. Vaccinazioni al via per il personale scolastico, ma si stanno riscontrando dei problemi con le forniture delle dosi di AstraZeneca. In Emilia Romagna sarebbero arrivate 5.000 dosi in meno di vaccino. A riferirlo è stato l'assessore regionale alle politiche sanitarie Raffaele Donini. La riduzione dei vaccini AstraZeneca significherebbe un rallentamento della campagna vaccinale per il personale della scuola, che partirà appunto lunedì con le prenotazioni. Naturalmente stasera arriveranno i dati aggiornati per quanto riguarda il bollettino da Covid. Tra l'altro oggi è il 21 febbraio, è esattamente un anno da quando si scoprì il paziente, quello che venne definito il paziente numero uno, per poi scoprire che il virus circolava già da tempo nel nostro paese. Quindi il bollettino con i numeri sarà aggiornato questa sera, faremo un po' un bilancio per quanto riguarda questo anno da Covid, che ha cambiato naturalmente le nostre vite. Intanto anche la ricerca va avanti, sono partiti tre progetti contro il Covid-19 da parte dell'Università di Ferrara, iniziative che sono supportate da una campagna di crowdfunding. Nuovi strumenti diagnostici, terapie sempre più efficaci e attenzione agli effetti psicologici sui pazienti. Quest'anno l'Università di Ferrara ha deciso di dedicare a tre studi sul Covid-19 la nuova campagna di crowdfunding da Teneo. La raccolta ha preso il via il 12 febbraio e vede al centro tre team di ricerca su tematiche specifiche. Sconfiggere la pandemia identificando l'infezione SARS-CoV-2 latente è l'obiettivo del gruppo diretto della ricercatrice in microbiologia Daria Bortolotti. Noi vogliamo identificare i possibili tessuti in cui il virus SARS-CoV-2 si annida, si nasconde, per favorire un migliore tracciamento, limitare quindi la diffusione dell'infezione e anche migliorare il trattamento dei soggetti infetti. Tutto questo ovviamente come azione adiuvante anche alla strategia vaccinale che è in atto ad oggi nel nostro paese. Attaccare il SARS-CoV-2 con uno spray antivirale invece è ciò su cui insiste la ricerca di Gaia Colombo e del suo staff del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie. Il virus quindi ha il suo punto di accesso laddove inizia a moltiplicarsi nel naso e nelle vie respiratorie superiori. Ecco quindi la nostra idea per una terapia che a tutt'oggi non è disponibile per trattare la malattia e per evitare che progredisca dalla fase di infezione precoce verso le forme con gravità superiori. Infine, migliorare la qualità della vita in terapia intensiva con un supporto psicologico ai pazienti e il lavoro di cui ci ha parlato Savino Spadaro del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna. La pandemia Covid-19 ci ha obbligati a conoscere indici di contagiosità, numero di vaccini, ma poco sappiamo di quello che accade in terapia intensiva. La vita in terapia intensiva è una vita difficile che necessita di un adeguato supporto. Noi con questo progetto vogliamo offrire un supporto a chi sta vivendo sulla propria pelle il Covid-19. I tre progetti sono descritti nel dettaglio su unife.it Ora cambiamo decisamente argomento e continuiamo per certi versi a parlare di ricerca, ricerca e ambiente per quanto riguarda soprattutto il mare, pescatori e studiosi a caccia, se così si può dire, dei rifiuti del mare nell'alto adriatico. Proseguono infatti i progetti di lega ambiente sempre dell'Università di Ferrara per appunto pescare rifiuti. Vediamo. Stanno procedendo di pari passo i due progetti di ricerca di lega ambiente Emilia-Romagna e Università di Ferrara che coinvolgono i pescatori di Porto Garibaldi e Goro con l'obiettivo di studiare i rifiuti raccolti accidentalmente in mare durante le attività di pesca e così favorirne il recupero. Ad entrambi i progetti Clara collabora operativamente mettendo a disposizione i contenitori dedicati sulle banchine portuali e occupandosi della raccolta del trasporto a smaltimento dei materiali intercettati per zero plastica in mare. Questo è il titolo del progetto di lega ambiente, la cui terza edizione è partita a fine novembre. Nei primi due mesi i volontari hanno già recuperato oltre 1,6 tonnellate di rifiuti. Il 98% si conferma essere materiale plastico, c'è poi un 1% di metallo e il restante 1% si divide tra gomma, carta, cartone, tessili e rifiuti particolari. Proseguirà fino a fine maggio anche il progetto di ricerca dell'Università di Ferrara per la raccolta di retti fantasma e rifiuti dal mare nella sacca di Goro. Dal mare all'agricoltura, novità in arrivo per le aziende frutticole che nel 2019 avevano subito pesanti danni per colpa della cimice asiatica. Dopo i primi risarcimento, arrivati alcune settimane fa, ora si profilano nuovi provvedimenti. Vediamo. Novità in arrivo per le aziende frutticole che nel 2019 avevano subito pesanti danni dalla infestazione di cimice asiatica. Dopo i primi risarcimento si profilano nuovi provvedimenti. Ci sono delle novità che sono effettivamente fresche fresche che oltre al ristoro previsto in conto capitale che è arrivato per la prima trans alle aziende agricole in questi ultimi giorni diciamo che abbiamo avuto la bellissima notizia che possiamo anche agire attraverso uno sgravio fiscale nella condizione delle aziende che sono state danneggiate dal 30 al 69% per circa il 17% di sgravio mentre se il danno è stato superiore al 70% fino al 50% dello sgravio. Adesso i nostri uffici si opereranno immediatamente per fare le dovute segnalazioni all'Inps per poi nei mesi di luglio e settembre operare allo sgravio dove gli agricoltori chiaramente ne hanno diritto e anche questa è una situazione che insomma dà un attimino un po' di franchezza e di ristoro ai nostri frutticoltori proprio perché insomma penso di dire che la politica sotto questo aspetto qui sia stata parecchio vicina ai frutticoltori e devo dire anche alla nostra provincia perché insomma siamo soddisfatti per quello che è successo. È chiaro che non corona assolutamente al 100% quelle che sono poi le soddisfazioni che dà un mercato e per le pere insomma di Ferrara sappiamo quanto sono amate in tutta Italia e in tutta Europa però sicuramente è un segnale di grandissima vicinanza che ci deve fare ben sperare per il futuro perché abbiamo assolutamente bisogno di un grandissimo ottimismo e una grandissima forza. Ora parliamo di un osservatorio, un nuovo osservatorio che nasce sui servizi di igiene ambientale all'opera di CNA è Clara. Vediamo. Un osservatorio che monitori costantemente il servizio di raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti offerto da Clara sul territorio di propria competenza avrà il compito di individuare eventuali criticità e rispondere alle esigenze delle imprese sia per quanto riguarda la qualità del servizio sia nei limiti del possibile per quanto riguarda le tariffe. E' questo un osservatorio sui servizi di igiene ambientale ed è l'obiettivo comune concordato da Clara e CNA al termine di un incontro che ha visto a confronto i vertici della multiutility e quelli dell'associazione imprenditoriale. CNA ha espresso l'auspicio che nell'osservatorio trovi spazio anche una rappresentanza delle amministrazioni comunali, i soci e di Clara. E' necessario appunto, aggiunge Amelia Grandi di CNA, che i comuni si diano un regolamento unico, valido su tutto il territorio a cui Clara fornisce il servizio rifiuti in modo da evitare diseguaglianze tra imprese appartinenti ad aree diverse, concludono dall'associazione. Ora parliamo della SPAL, la SPAL che ieri si è fatta rimontare a Vicenza contro i padroni di casa, due a due il risultato finale, sentiamo Alessandro Sovrani. Grande occasione gettata al vento dalla SPAL che è in vantaggio 2-0 al termine del primo tempo, si è fatta raggiungere disputando una ripresa altamente sotto tono. Secondi 45 minuti di gioco oltremodo deludenti per la formazione di Pasquale Marino, che è stato costretto a rinunciare a Mora a causa di un attacco influenzale che lo ha colpito nel corso della nottata e la sua assenza, soprattutto quando si era presentato il momento di gestire il 2-0. Si è fatta senza ombra di dubbio, più che mai sentire prima fase del match, con tanti errori da una parte e dall'altra, gara all'insegna dell'equilibrio con i due portieri completamente inoperosi, con la SPAL che comunque dimostrava di poter trarre giovamento dall'inserimento sul fronte offensivo al fianco di Paloschi di Assenzia, che ha costituito un ottimo punto di riferimento. SPAL che passava al 28esimo con Valotti che di testa può allungare un pallone in piena area di rigore per Paloschi, abilissimo a controllarlo con il sinistro, contemporaneamente evitando la copertura di Padella e battendo con il desco imparabilmente da una decina di metri il portiere dell'Anerossi Grandi. Inesistente o quasi la pressione del Vicenza e al 42esimo minuto il signor Gariglio vedeva solo lui, ad onore del vero, su una conclusione spolito dal limite dell'area di rigore servito dalla strepezza, un'area spinta con un braccio di Padella. Rigore su cui giustamente arrivavano le grandi proteste dei giocatori del Vicenza, sul dischietto si portava Valotti che spiazzava Grandi e sembrava poter aver messo a segno il gol che avrebbe potuto regalare alla Spal un importante successo dopo un lungo digiuno. Vicenza però reagiva nella ripresa determinante, risultavano l'inserimento sul settore destro dal monte, contro il quale nonostante Marino fosse passato nel corso del primo tempo la difesa a quattro, che quindi vedeva Dickman, la destra, la sinistra e la coppia, Tomovic e Vicari al centro, diciamo a Spal che non riusciva ad arginare la spinta del nuovo entrato. Al quinto minuto Meggiorini calciava al volo, si superava Beriscia, che spingendo la conclusione del numero 69 dell'Anerossi. Al tredicesimo minuto, Traversone di Beruato per Longo, che tentava di aggirare Beriscia, che riusciva con un'uscita a terra ad evitare all'avversario di presentarsi praticamente a porta sguarnita per riaprire il match. Poi attorno al ventesimo minuto, Pasquale Marino decideva di togliere Asensio, schierato un po' a sorpresa nell'undici iniziale e ovviamente non con i 90 minuti nelle gambe, inserendo Flocari. A questo punto emergeva ancora una volta la difficoltà dell'asfalto, di tenere palla nella metà campo avversaria. Il Vicenza, anche grazie a altri cambi, prendeva letteralmente il sopravvento al venticinquesimo minuto, cross di Giacomelli, palla colungata da Pontisso per il copo di testa ravvicinato di Pasini, che riusciva anche ad anticipare la disperata uscita di Beriscia, che assolutamente non aveva colpe, al contrario dei compagni del reparto arretrato. Il Vicenza sulle ali dell'entusiasmo insisteva e alla mezz'ora trovava il gol del pareggio. Manco a dirlo, puntata dal monte, cross per il controllo in piena aria, la girata di Meggiorini, completamente libero, raso a terra a fil di palo, che non lasciava scampo a Beriscia. Era un Vicenza che addirittura sfiorava il gol di quello che, tutto sommato, poteva essere anche un successo meritato. Al trentatreesimo gran sinistro di Gori, appena entrato in sostituzione di Meggiorini, si superava Beriscia. Poi, nel finale, entrambe le squadre cercavano di conquistare i tre punti. La prima ad andare vicino al gol del vantaggio era la Spal con una gran conclusione di Paloschi da una decina di metri. E qui era, grandi ad imitare Beriscia. Ma poi, nei minuti finali, ancora Vicenza in avanti. Spal assolutamente priva di energie. Due colpi di testa ravvicinati di Gori. Il primo pallone alto di un soffio, il secondo centrale, e con Beriscia che ringraziava. Tanto rammarico, quindi, in casa della Spal che vede allungarsi le distanze dal secondo posto. Spal che dovrà molto riflettere su questa prestazione, soprattutto sul secondo tempo. Insomma, ancora una volta, quando le avversarie alzano i ritmi, la formazione di Pasquale Marino va in affanno. Naturalmente, tutti i commenti con l'appuntamento a Lunedisport domani sera con Alessandro Solani e i suoi ospiti. Intanto parliamo, prima di chiudere di arte, perché, purtroppo, insomma, il ritorno in zona arancio ha fatto sì che tornino a chiudersi ancora i musei. 5.041 i visitatori della mostra di Antonio Ligabue, una vita d'artista, Palazzo dei Diamanti, nelle tre settimane di riapertura, cioè quelle dal primo febbraio. Ora, di nuovo, si dovrà, da lunedì, cioè da domani, sospendere l'attività per, appunto, l'ingresso delle medie romani in zona arancio e un nuovo e duro colpo per la cultura, per la fruizione del bello, per l'alte e per il lavoro, ha sottolineato l'assessore comunale Marco Gulinelli, naturalmente, insomma, che ha avuto un pensiero, un ringraziamento per questa delicata fase a tutti i lavoratori e tanti che avrebbero voluto visitare la mostra nei giorni, insomma, ma sono stati, sono costretti, diciamo così, a pazientare ancora un po'. Allora, chiudiamo qua il nostro TV giornale per tutti gli aggiornamenti. Vi ricordo il sito, la pagina Facebook e il nostro canale YouTube. Grazie di essere stati con noi. Arrivederci. Grazie.